Di recente pubblicazione per Artemia Editore, Storia della massoneria in Abruzzo di Elso Simone Serpentini e Loris Di Giovanni che nei nostri studi per presentare quello che è un lavoro unico, il primo su questo tema, suppongo tra grandi difficoltà di documentazione ma con grande entusiasmo. Sì sicuramente il primo problema è stato quello del reperire le fonti, per questo libro principalmente ci siamo rivolti al Grande Oriente d'Italia sia per l'archivio storico dove c'era Vittorio Gnocchini sia per la biblioteca con Dino Fioravanti. Poi l'archivi privati, l'archivio centrale di Stato per il DAGR, sicuramente sì la penuria delle fonti ha fatto sì che non ci sono oggi tanti libri sulla storia massoneria nelle regioni, ne esistono soltanto tre in Italia e quindi diciamo l'eccezionalità del lavoro è proprio in questo. L'arco storico va dal Settecento con le ovvie influenze partenopee fino all'immediato dopo quella con la ricostituzione delle logge in Abruzzo. Qualche figura esemplare di massoneria sia sempre un'accezione negativa su questo mondo invece? Invece in Abruzzo, come ricordava Pocanzilesi, questo lavoro parte dal 1750 e arriva al 1950 e in questo arco di tempo contiamo personaggi importantissimi per la storia dell'Abruzzo. Melchiorre Delfico a Teramo con tutta la famiglia Delfico, Filippo, Troiano e a Teramo stesso diciamo quasi due terzi di tutti i sindaci e amministratori della città. Camillo De Meis di Bucchianico, per esempio a Lanciano con Floraspe Renzetti, molti conoscono l'ospedale Renzetti ma pochi sanno che questo sacerdote che era sia gran maestro della carboneria sia un massone di alto grado aveva con un testamento non occupativo donato tutti i suoi beni per far erigere proprio a Lanciano un ospedale e un ricovero per i poveri. Per quanto riguarda la sua personale dedizione al tema ricordiamo che lei sin dalla tesi di laurea ha seguito l'evoluzione di questo mondo. Io vengo da un percorso di studi di due lauree, la prima in giurisprudenza con una tesi con il professor Michele Claudio Delrecco proprio sulle associazioni segrete e le libertà associativa quindi con un indirizzo più giuridico e poi a scienze politiche con il professor Mauro Canali che è uno storico affermato e il titolo era proprio uguale a quello del libro della storia della massoneria in Abruzzo ma la fortuna è stata incontrare e fare un lavoro a doppia mani con Elso Simone Serpentini che è uno storico davvero valente di Teramo e lui si era già occupato di questo argomento con un altro suo volume che era l'Oriente di Teramo quindi la storia della massoneria a Teramo. Ricordiamo anche l'importanza della casa editrice di Artemia Nuove Edizioni che ha voluto con la dottoressa Teresa Orsini che ha voluto puntare su questo libro che sta avendo un grande successo.